Da quando sono qui mi è calata la vista, ho un continuo ronzio negli orecchi, i reni non funzionano bene e il cuore perde colpi. E' la vecchiaia mi dico, ma io lo so che è il dolore, un dolore così forte che ti ammazza le cellule una a una. Quando sono entrata qui dentro ero molto diversa, assassine lo erano le altre forse, io no di certo. Ma credo che sia normale, sennò non ce la fai, non sopravvivi. Qui le giornate sono tutte uguali, ti sembra di vivere in una bolla, sospeso, sospeso da tutto. Grazie. 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 Grazie.